Triccio, Anko, buongiorno ragazzi e ragazzi oggi sono ritornata qui buonissimo a un video questo video iscrivetevi a un bellissimo video allora raga ho acquistato un nuovo paio di scarpe allora per questo nuovo paio di scarpe volevo condividerlo anche con voi questo nuovo paio di scarpe raga vi giuro io sono innamorata saranno semplici, saranno come volete voi ma io sono davvero innamorata di queste scarpe e niente raga vi ho portato questo video un bel po' dopo dopo che le ho prese perché come dire come dire la scuola mi ha occupato praticamente tutto il mio tempo quindi non avevo tempo per fare questo video per l'ora che ce l'ho ve lo porto come si vede sono qui e niente raga io le amo raga non so se siete pronti a preverle io le amo cioè saranno io le amo davvero le amo allora e poi secondo voi di che marca sono cioè marca quella mi avete capito vabbè comunque in questo video sono in fissa con innanzitutto questa treccia bellissima me l'amo e questo cosa così tipo qualsiasi persona che vi dà ti giuro raga davvero sono una persona un po' pozzerella però è la vita sono io sono io e niente comunque raga qui sto bellissime le amo vabbè lasciamo stare raga non mancano dieci secondi e ve le faccio vedere vedete c'è proprio mi viene distinto fare questa cosa troppo adoro allora raga le mie scarpe io le amo ok allora sono queste cioè lo scatolo è qui è molto semplice molto visibile molto squisi ma le scarpe sono qui l'ho fatto una altra volta qui queste raga queste queste raga allora per chi pensava che avessi comprato delle scarpe bianche e nere beh ha raggiunto cioè ha vinto non lo so pensate allora raga ho preso delle scarpe così le tank delle tank molto belle queste sono una volta raga sono bellissime cioè non sono però hanno ancora una torre di nuovo le amo allora dicevo raga allora sono queste scartine qui bellissime ora le faccio vedere anche l'altra allora facciamo così 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 uii io le amo raga per me sono da semplicità ma per me sono stupende sono davvero bellissime e aspettate un attimo qui un po' di queste cose che mi danno fastidio queste pieghe e niente raga allora la cosa che non sono ancora riuscita a fare sono quei lacci qui così sono ancora troppo lunghi quindi vorrevo fare un nudo fare così e così però sono sempre troppo lunghi quindi se avete dei consigli dei metodi per fare dei lacci tipo quelli di così più corti non riuscite a dirmelo perché ne ho bisogno davvero bisogno tanto avete capito e niente raga queste sono le mie scarpe le mie nuove scarpe bellissime niente spero che questo video vi sia piaciuto mi è piaciuto tantissimo condividere anche il mio nuovo paio di scarpe comunque vi ho contato quante volte ho detto scarpe in questo video perché davvero mi è detto ci vediamo al prossimo video ciao